Il tema su cui vorrei concludere è il fatto che anche questa emergenza del coronavirus sicuramente impatterà sui mercati mondiali, sull'interscambio. E l'interscambio purtroppo danneggerà il nostro settore. Ma dobbiamo affrontarlo con degli strumenti straordinari. Ed è per questo che abbiamo deciso di riunire di nuovo tutti gli attori principali, le associazioni di categoria, gli stakeholders, alla Farnesina, con i ministri interessati per ricalibrare il piano di promozione del Made in Italy sulla scorta di quello che sta avvenendo adesso a livello mondiale per questa epidemia. I nostri mercati di riferimento li conosciamo, ce ne sono nuovi verso cui possiamo andare. Dobbiamo ricalibrare le nostre iniziative nell'ottica di favorire questo settore. Questo è il forte impegno mio personale, della Farnesina, del Governo, a sostenere l'azione delle associazioni per la dignità e la legalità del lavoro in agricoltura.